Ok, per questo esercizio vi servirà una vede elastica. Fissatela a un'altezza compresa tra il vostro gomito e la vostra spalla. Da qui cosa facciamo? Andiamo a aumentare la tensione della venta facendo dei passi verso l'esterno. Uno, due, in base a quella che è la tensione che desiderate ottenere. Andate a distendere successivamente le braccia avanti a voi. Ora, coro attivo, scavo ben chiuse dietro, vado a ruotare verso quello che è l'attracco della venta. Cercate di non portare il vaccino in esterno, ma di mantenere la posizione più dritta che potete. E ritornate in posizione in partenza.